Ragazzi, la macchina che alle mie spalle sta facendo girare alla grande un benchmark di 3DMark No, non è un PC da gaming, ma è un mini PC di nuova generazione Talmente potente da essere paragonabile ad un vero e proprio PC da gaming Quasi non ci si crede Benchmark finito e tra un attimo leggeremo insieme i risultati Che sono tanta roba, ve lo anticipo, io ho già fatto questi test Ma vi dico subito di cosa si tratta Lui è il Belink serie SE-I14 Un modello non ancora disponibile in commercio Ma appena lo sarà ve lo comunicherò dove Ovviamente è bene il mio canale Telegram ufficiale TechBestDales Che trovate linkato qui sotto in descrizione del video Quindi entrateci subito E che se avete visto il video precedente a questo Mi ha dato non pochi grattacapi Perché dopo il primo avvio non si è più avviato Si è spento e non si è più riacceso Il motivo era il suo alimentatore a quanto pare difettoso Io ho le competenze per ripararlo L'ho riparato e ora funziona benissimo Ok queste sono cose che possono succedere con qualsiasi apparecchiatura elettronica Anche con uno smartphone da 1000 passa euro Ma diciamo che non dovrebbero succedere E andiamo a leggerli questi benchmark con un punteggio di 2.908 punti Su una media Usando la stessa configurazione hardware di 2.600 punti circa E un miglior risultato di 3.100 Questo non è nemmeno il mio miglior risultato In quanto sono arrivato attorno ai 2.960 2.970 Che comunque è tanta roba E ora leggiamo le sue specifiche hardware Con un processore che vi ho già anticipato essere di una generazione Un Intel Core Ultra 5 125H Che integra al suo interno una GPU Una scheda video Intel Arc E insomma permette dei risultati davvero clamorosi Queste sono le curve di utilizzo Le temperature che non superano mai i 50 gradi circa Quindi davvero Un processore In queste prime battute è davvero eccezionale 14 core 18 thread Con un clock di 3 GHz Turbo fino ai 4.5 GHz Quadrivato da 32 GB di RAM DDR5 E mezzo TB di SSD super veloce Oltre ad una connettività Wi-Fi 6 Bluetooth 5.3 E diverse porte Abbiamo USB A USB Type-C Thunderbolt E nella parte posteriore abbiamo altre 3 USB A HDMI Ethernet Un'altra USB-C qui in mezzo HDMI Displayport E connettore di alimentazione Insomma Una bella macchina Anche il sistema da reazione È abbastanza complesso Senza essere rumoroso È un bel mattoncino pesantino Cosa rende così speciali questi processori di nuova generazione? Beh Detta in maniera molto semplice La loro potenza Quadiuvata da un chip grafico Intel Arc Che sarebbero le schede grafiche di nuova generazione di casa Intel Quindi tutta un'altra storia rispetto al passato Rispetto ai vecchi chip grafici integrati Oltre alla N+. Si tratta della possibilità da parte di questi processori Di poter gestire un'intelligenza artificiale in locale Senza quindi basarsi sul cloud Quindi hanno una potenza davvero spaventosa Ragazzi questo è Cyberpunk 2077 Uno dei videogiochi più pesanti degli ultimi anni Ci sto giocando con dettagli grafici Su medio, medio alto Ed è davvero Davvero fluidissimo Potete vedere che il processore non è nemmeno sfruttato Al massimo del suo potenziale Guardate voi che roba Anche i caricamenti sono molto rapidi Vediamo Ecco Sembra davvero di Avere tra le mani Un pc da gaming In miniatura E anche provando a cambiare gioco ragazzi Ora ho avviato Helldiverse 2 Uno dei titoli più famosi Degli ultimi anni Degli ultimi mesi Beh Che sono le applicazioni più pesanti da gestire Specialmente per un mini pc Ma ovviamente potete utilizzarlo per lavorare Per un uso a 360 gradi Che sia il lavoro appunto Editing video 4k Il fotoritocco Insomma è una macchina davvero potente Non sono più i mini pc di una volta che si potevano usare solo per navigare un po' sul web Ora potete farci Ora potete farci praticamente tutto Non so ancora quale sarà il suo prezzo qui in Italia Perché ve l'ho detto inizio video lui non è ancora disponibile in commercio Comunque orientativamente il suo prezzo dovrebbe oscillare tra i 400 e i 700 euro So che è una forbice abbastanza ampia però per ora questo è tutto ciò che so Diciamo che tra i 400 e 500 e 600 euro potrebbe essere un prezzo davvero Secondo me fantastico per chi vuole una macchina da utilizzare a 360 gradi Anche per giocare anche per lavorare senza problemi C'abbinate un monitor questo l'ho pagato sui 150 euro di qualità discreta Mouse e tastiera logitech da 40 50 euro insomma decidete voi E non vi serve praticamente altro Trovate tutti i link per acquistare questo mini pc appena sarà disponibile E sarà disponibile in diverse configurazioni Non solo quella che vi ho mostrato in questo video Oltre a mouse e tastiere monitor e altri accessori che vi consiglio Dove abbiamo ovviamente nel mio canale telegram ufficiale tech best deals Linkato qui sotto in descrizione di video Entrateci e troverete tutto quello che vi serve al suo prezzo più basso Ora però ragazzi ditemi voi cosa ne pensate di questi mini pc di nuova generazione Trovate che siano delle macchine interessanti su cui fare affidamento per il futuro Oppure no, parliamo insieme, dite la vostra E se avete due domande non esitate nel chiedere Mi piacerebbe portarvi ulteriori contenuti su questo mini pc E in particolar modo sul suo processore intel ultra Magari testandolo con diverse applicazioni Videogiochi, programmi, quello che è Consigliatemi voi su cosa vorreste vederlo lavorare Con un bel commento E direi che questo è tutto ragazzi Io vi saluto e vi do appuntamento al mio prossimo video Sempre quello vogliate Sempre qui su Addicta e su Tech Alla prossima Ciao ragazzi Ciao